Complimenti intanto per l'esordio, De Zogus, primo tempo, pronti via, hai recuperato un pallone, hai puntato 3-4 volte l'area di rigore, forse ti è mancato un po' di concretezza in area, ma c'è tempo per migliorare quello? Sì, c'è tempo, però mi dispiace, perché secondo me potevo provare almeno a tirare in porto o a fare un assist per i miei compagni, però per me è andata, è andata bene per fortuna, quindi sono contento dello stesso. Aspettavi così l'esordio in maglia bianca-azzurra? Eh, così sarebbe piaciuto. Un risultato così pesante qua a Foggia non è facile farlo, quindi sono contento per questi esordi. Vogliamo capire un po' la tua caratteristica migliore, ti senti più esterno a sinistra, esterno a destra, seconda punta, trequartista, so che puoi fare tutto, ma se potessi scegliere tu? Esterno a sinistra se potessi scegliere, sì. Come giocatore? Sì, sì, mi piace, sì.